E' la settimana santa, quella che proprio oggi prende il via, è una settimana che racconta gli ultimi giorni la passione di Cristo. E' la settimana santa che è vissuta con particolare e intenso trasporto da tutto il popolo cristiano, ma in questa città, in questa diocese, lo è particolarmente. E' la settimana dei misteri, così come amiamo a dirla per i trapanesi. Abbiamo scelto oggi di incontrare Sua Eccellenza il Vescovo di Trapani e abbiamo scelto anche un luogo che quest'anno sarà un luogo particolarmente valorizzato nel corso di questa settimana santa, ovvero una delle chiese, a mio modesto parere, fra le più belle, fra le più pregne anche e di significato per la sua luce, per la sua architettura, che è quella di Santa Maria del Gesù, per i trapanesi di Doc Santa Maragesa. Ecco, eccellenza. Partiamo da Santa Maragesa perché vorrei che lei ci avesse un po' un escurso su quelli che sono i valori per il cristiano della settimana santa e poi andremo invece nella calendarizzazione della nostra città. Certo. Sono anch'io molto contento che ci sia stata questa ricucitura, chiamiamola così, tra un luogo simbolico di grande valore come è Santa Maragesa e il resto del centro storico e il resto della nostra città. Una ricucitura che non è solo topografica, ma è anzitutto proprio ideale di contenuti. Noi arriveremo qui il venerdì santo dopo aver celebrato l'avvio del triduo pasquale il giovedì pomeriggio nella cattedrale, come è giusto che sia, nel senso la chiesa simbolo della presenza del vescovo nella città di Trapani e la cattedrale. Lì nel pomeriggio celebreremo la rievocazione dell'ultima scena e poi ci prepareremo il giorno dopo a questo evento dell'azione liturgica della morte del Signore. Era molto importante recuperare, dicevo, questo legame tra l'evento liturgico che io avrei fatto di nascosto quasi nella cattedrale e invece ora lo faremo qui in Santa Maragesa alle 12 con la partecipazione di tutti. Mi hanno detto che anche le maestranze vorranno partecipare, quindi io sono contento che la città si riappropri di questo luogo e di questo evento generatore della processione dei misteri. Mi scusi, questo è l'unico che si tiene nelle chiese della città? E' certo, certo perché tutte e tre le parrocchie del centro storico convergeranno qui insieme con il vescovo per questa celebrazione che non è una messa quella del venerdì santo, si sa che il venerdì santo si fa un'azione liturgica dove c'è la preghiera comunitaria, c'è l'adorazione della croce, c'è l'ascolto della parola di Dio e poi dopo la partenza verso la chiesa del purgatorio. Questo a sottolineare, vi dicevo, quel bisogno di unità che tutti avvertiamo, insomma, perché altrimenti si fanno cose un po' disordinate e dove, dico la parola disordinata, mancanti di ordine, di un ordine spirituale, di una unità interiore di cui tutti siamo affamati, diciamo desiderosi. E io sono contento anche da questa sede di poter dire il mio grazie a quanti si stanno impegnando a ricostruire questo ordine che non è contemperare dei protagonismi di vario tipo, cioè i protagonismi prima o poi muoiono. E' importante invece che siano le idee, i contenuti, il messaggio spirituale della Settimana Santa che noi vogliamo donare. Anzitutto i trapanesi che ne hanno diritto, hanno sofferto tanto e continuano a soffrire i nostri concittadini e la nostra diocesi e hanno diritto a ritrovare il succo, il messaggio forte dell'esperienza cristiana. E poi anche tutti coloro che ci visitano, quelli che vengono, i turisti, da qualunque paese vengano, vengano da paesi più ricchi di tradizioni religiose o più ricchi soltanto di, che devo dire, di esperienze laiche, possano trovare a Trapani una città accogliente e ricca delle sue radici umane e cristiane. Io ho una chiave di lettura anche laica di questa cosa, che nei tantissimi anni passati, sono circa 25 anni che faccio la cronaca dell'entrata e dell'uscita dei gruppi, ho avuto modo di vedere che la partecipazione, oltre che quella dei cittadini a cui partecipano anche non credenti, voglio dire, però molti turisti, persone di passaggio che si soffermano e vedono spuntare lacrime a gente che magari non è cristiana. C'è il racconto della storia della sofferenza di un uomo in cui ci si può identificare e dal punto di vista così umano, oppure da quello spirituale, è comunque una grande storia d'amore che coinvolge tutti. Certo, certo. Io mi auguro che questo concetto venga rafforzato sempre di più, perché l'uomo dei dolori, Cristo Gesù, è anzitutto colui che aiuterà la civiltà occidentale a ritrovare l'identità, mi passi la parola difficile, antropologica. La nostra società occidentale si sta permettendo il lusso di fare a meno dell'uomo, di costruire una società senza l'uomo, si è costruita o si è preteso di costruire una società senza Dio e si è arrivata all'ipotesi che si può costruire una società umana senza l'uomo. Io credo che l'uomo dei dolori, Cristo Gesù, che i misteri di Trapani ripropongono continuamente, è proprio una grande provocazione ad andare alle radici di quello che possiamo definire civiltà, civiltà umana. Ed è per questo che tutta la cultura laica fa bene a guardare seriamente a Gesù Cristo, anche se non lo riconosce come Dio, anche se ancora non riesce, tanti sono in ricerca, io lo so bene, il popolo che si avvicina a Trapani è un popolo variegato dal punto di vista delle idee e dobbiamo accettarlo, riconoscerlo così. Ma noi continuiamo a pensare che quando Isaia dice che il servo di Yahweh che si è fatto carico delle nostre miserie, delle nostre piaghe, delle nostre sofferenze, come agnello portato al macello, noi abbiamo tutti bisogno davvero di riflettere su questo. Ed è a partire da questa riflessione che si innesca una capacità di rilettura della nostra storia, anche delle problematiche grosse della nostra Trapani, anche dei problemi della mafia, i problemi della violenza, violenza brutale che Papa Francesco continua a denunciare quando visita le diocesi italiane. Noi non siamo fuori di quelle denunce che il Papa fa. Allora, ben mi sta se la lettura laica dei misteri ci porta al cuore di questa riflessione, no? Vuol dire che siamo nella strada giusta. Questo è il percorso un po' spirituale che può essere di ognuno di noi, ma della intera comunità. Però volevo che lei adesso ci sia un po' il percorso di questi giorni, che non è solo quello del venerdì santo. Diciamo che da noi in città si inizia proprio domani con la prima delle due madonne che vengono portate in processione per poi arrivare al giovedì dove in cattedrale c'è un appuntamento importante. Certo. Naturalmente la nostra città ha da tempo accolto il messaggio cristiano e ha chiamato raccolto attorno a delle icone fondamentali, anzitutto quello della Madonna. Non si può parlare della settimana santa, in particolare da noi, senza fare un grande riferimento a lei, alla Madonna. Alla maternità di Maria che è maestra di misericordia, ma anche maestra di gioia, maestra di dolore, madre che permette a noi trapanesi di capire il versante umano e cristiano della vicenda che celebriamo. Poi, come giustamente è stato detto, dopo la giornata delle palme, che è quella che celebriamo domani, noi avvertiamo il bisogno di convergere verso il giovedì santo. Il giovedì santo ha due momenti. Al mattino nella cattedrale il Vescovo incontra tutti i sacerdoti della riocesi e tutti i sacerdoti ospiti o di passaggio, i religiosi. È un evento di straordinaria bellezza. La chiamiamo la messa crismale perché è la messa nella quale il Vescovo benedice gli oli, il sacro crisma, gli oli dei malati e gli oli dei catecumeni. Questa cosa ci porta a concludere in un certo senso il percorso di quaresima e nel pomeriggio del giovedì con la messa della cena domini che faccio in cattedrale io e poi ogni parroco nella sua parrocchia si avvia il ciclo del triduo pasquale. Poi il venerdì santo di cui abbiamo già parlato, poi la veglia, la notte di Pasqua. La veglia che non ha una grande conoscenza popolare ma è attenzionata credo molto dalle comunità cristiane. Diventa un momento di raccoglimento, di ascolto della parola con la liturgia del fuoco, con la liturgia dell'accoglienza dei nuovi cristiani, con i battesimi eccetera. Ecco la veglia pasquale che è la celebrazione del risorto, sicché poi si arriva il giorno dopo con il pontificale che faccio in cattedrale e la messa per il risorto che faccio nella chiesa del purgatorio nel pomeriggio vanno a conclusione gli eventi di questo periodo pasquale. Un'ultima cosa che voglio chiederle è proprio un'occasione della processione del venerdì santo con le voce che lei quest'anno farà un po' di innovazione. Ci si era abituati da sempre ad un vesco affacciato dal balcone, qualche anno fa addirittura dal palazzo di città e so che lei quest'anno invece vuole fare un percorso assieme ai misteri. Sì, ma io devo dire che la processione è un evento non solo importante per coloro che lo vivono, anche per me che sono vesco. Io non posso rimanere spettatore. Se faccio parte di questo popolo, devo essere dentro questo popolo a camminare con loro. Voglio mettere anche i miei piedi e il mio cuore a disposizione di quanti forse non lo possono fare o per età avanzata o per malattia o per qualunque motivo e voglio portare, come dire, con la mia gente il peso della croce di Cristo. Per cui ho deciso che la mattina alla ripresa del percorso dal largo delle ninfe ci sarò anch'io. Vuole essere un gesto di affetto, di solidarietà, un atto di fede e poi ci ritroveremo alla conclusione del percorso davanti alla Chiesa del Purgatorio per l'ingresso della Madonna. Quattro quest'anno è anche ripristinata la sera del venerdì santo, una sosta a Piazza Vittorio dove lei avrà modo di incontrare la città e anche un po' il popolo dei misteri. Certo sì, quella è un'occasione che mi è stata suggerita, ho voluto aderire a questa idea, la prendo volentieri perché è un momento di dialogo, anche se ci sarà un po' di confusione perché ovviamente la festa coinvolge tante persone, però credo che quella sosta potrà avere una sua importanza. È un dialogo del Vescovo con la città e con tutti coloro che ci fanno visita. Credo che servirà a ridarci unità e a portare un senso di valorizzazione del contributo, del valore e del lavoro di tutti. insomma, non solo dei ricchi ma anche dei poveri, non solo dei dotti ma anche degli umili. Io credo che ci sia una dimensione popolare che va recuperata nel senso più nobile del termine e quella è un'occasione perché no da valorizzare e se il Signore vuole potrà essere anche una tappa di ulteriori percorsi di rinnovamento interiore che possano portare anche a un rinnovamento sociale da tutti auspicato. Anticipiamo un po' a tutte le famiglie della Diocesi una buona Pasqua. Grazie, grazie. Vi auguro davvero cari fratelli e sorelle una Santa Pasqua. Io l'attendo con trepidazione, con commozione questa giornata come tutti voi e so che il Signore Gesù che contempliamo come uomo dei dolori da un lato ma anche i credenti sanno che è anche il liberatore dal non senso del dolore. Ecco, io mi auguro che allora questa giornata di Pasqua sia piena di luce per tutti e ci permetta di continuare a camminare per estirpare le radici del male perché il Signore è venuto per questo e ci permetta di essere tutti un po' costruttori di pace e di unità nella nostra società.